Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Si vanta di aver applicato Giuseppe Provenzano e di conseguenza la segreteria Schlein? Guardi, gli accordi internazionali, come ho detto in un'intervista del 2019, non sono la tavola di Mosè. Quindi neanche quelli con la Libia, eppure avevo una certa conoscenza della materia, lo dissi nel 2019, non sono le tavole di Mosè. Quegli accordi possono e devono essere cambiati. E vede, io ho un dubbio che mi viene, per quale ragione il PD è stato, per due governi, parte fondamentale della maggioranza di governo, dopo il 2019, non prima del 2019. E per quale ragione, essendo parte fondamentale, non ha assunto queste posizioni per cambiare radicalmente quegli accordi quando era nella maggioranza di governo? Ci risponda anche a questa domanda? Ci risponda lei? No, no, ci risponda lei a questa domanda. Non lo so, nel momento in cui uno fa... siccome questa questione è nota da molti anni, si discute da molti anni, essendo io uno che conosce la materia, dico nel 2019 si può cambiare. La risposta che viene, volendo essere un pochino maliziosi, ma Andreotti diceva questo, essere maliziosi fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E cioè che si assumono posizioni radicali quando si è certi che la loro posizione non influisca. E' chiaro? Quando si è in maggioranza non si è mai netti. Questo perché allargando non c'è possibilità di... bisogna comprendere su questi temi un grande forza di sinistra, una forza riformista, una forza politica che vuole parlare al Paese, deve mettere in campo soluzioni e proporre cambiamenti concreti. anche molto impegnativi, anche molto idealmente forti. L'unica cosa che non può fare è sollevare partite di bandiera, che all'opposizione vengono sollevate e quando si è al governo non vengono poste. Questo è un problema un pochino delicato che riguarda la credibilità di una forza politica. Lo dice uno che appunto ha avuto una pratica con quegli accordi e tuttavia, come è noto, quegli accordi non li ha firmati. Perché quegli accordi li ha firmati il Presidente del Consiglio dell'epoca perché è un accordo tra capi di Stato. Io non avevo il rango per poter firmare quegli accordi. E sinceramente mi sembrerebbe un pochino offensivo pensare che il Presidente Gentiloni abbia firmato quegli accordi senza averli capiti, diciamo. Chiedete a Gentiloni. Chiediamo a Gentiloni, sì sì sì. Come è così? Chiediamo a Gentiloni. Chiederemo e anche Provenzano dovrà chiedere anche a Gentiloni. No, non lo so. Così mi viene spontaneo chiederglielo. Cioè, nel senso che vedo delle cose, diciamo... Una bandiera, secondo lei potrebbe essere una sorta di bandiera politica dall'opposizione. Sono passati due anni. Prima il Conte II e poi il governo Draghi. Quale migliore occasione per discutere e cambiare quegli accordi? E perché vede, quando si fa un accordo, come si fece quello nel 2017, ricordo, firmato dal Presidente del Consiglio, fatto proprio dalla Unione Europea nel vertice di Malta, tre giorni dopo, cioè tutte e 27 capi di Stato e di governo, firmarono e condivissero quell'accordo. Si fa un accordo con l'idea che quello è un punto di partenza, serve per ingaggiare l'interlocutore, ma poi quell'accordo va cambiato. Non è un caso che, per esempio, noi alla fine del 2017 facemmo i primi corridoi umanitari della storia dalla Libia verso l'Italia. E quelle cose fatte andavano inserite dentro l'accordo. Questa era la mia idea e lo dissi pubblicamente in un'intervista, tra l'altro che ebbe una certa rilevanza, una certa eco. Senta, per guardare a quello... Perché non abbiamo preso in mano quegli accordi quando potevamo cambiarli? E lo facciamo adesso sapendo che c'è una maggioranza, tra virgolette, che invece non vuole cambiarli? Punto interrogativo. Ah, saperlo, saperlo. Noi siamo anche alla vigilia dell'estate, Presidente Minniti. Non c'è un luogo, bene ma regiera un giorno. Quindi... ...